Eccoci qui ragazzi allora, buon fine settimana a tutti quanti voi, benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di lasciare subito un mi piace per supportarmi, a voi non costa niente ma per me è molto importante e se volete anche un'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella per ricevere notifiche sempre aggiornate. Oltre che su questo canale sono attivo anche sul secondo canale di gaming, sul sito Viola, su Instagram, su Facebook, praticamente dappertutto, i link per potermi seguire dovunque li trovate qua sotto in descrizione. Detto questo ragazzi allora, oggi è la vigilia, possiamo dire, di Roma Crotone, la terz'ultima giornata, anzi la quart'ultima giornata di campionato che sicuramente bisognerà vincere, quantomeno per non rendere questo campionato ancora più disastroso, perlomeno per avere un numero di punti vicino a un'annata decente e non a una disastrosa come è quella che stiamo facendo fino a questo momento. Detto questo però non mi voglio concentrare molto su quella partita, lo farò senz'altro domani con un video apposito. Oggi voglio parlare nuovamente della nuova Roma di Mourinho. Lo so, vi ho già detto che fino a che appunto non ci sarebbero stati i primi aggiornamenti non avrei fatto video di lucro a riguardo, per modo di dire, perché sappiamo bene che ora come ora i giornalisti dicono i mille nomi che passano per la testa, è De Gea di là, è Vinicius da una parte, questo e l'altro. Io invece sto un po' nel mezzo, nel senso sono convinto che la Roma farà dei doverosi acquisti necessari per poter ambire a qualcosa di più di quello che abbiamo fatto quest'anno, ma al tempo stesso non mi aspetto nomi particolarmente incredibili sia a livello di ingaggio che a livello di cartellino, sia per la crisi in generale del calcio italiano e mondiale a livello economico. E anche perché la Roma, pur avendo un budget sicuramente importante per poter costruire una rosa di livello, non ha gli esceicchi, nel senso cioè non posso pensare che faremo 500 milioni di spesa solamente per rinforzare la squadra e renderla adeguata a Mourinho. Detto questo però è innegabile che i reparti devono essere rinforzati, molti giocatori devono partire perché hanno concluso il loro ciclo con la maglia giallorossa ed altri invece devono arrivare per rinforzare la squadra sia da un punto di vista tattico che tecnico. Lo sottolineo perché Mourinho probabilmente qua adotterà subito un bel cambio di modulo. Secondo me la scelta è migliore perché il modulo che stavamo portando avanti fino a questo momento non era adeguato o perlomeno non era sufficiente se consideriamo le qualità tecniche dei nostri giocatori. Poi certo Fonseca ha avuto anche tanti problemi fisici e non ha mai potuto mettere la formazione titolare dal portiere all'attaccante, ma comunque guardando appunto la qualità tecnica dei nostri giocatori è evidente che il 3-4-2-1 non era più un modulo supportabile perché i difensori si facevano spesso bucare, il centrocampo non riusciva a contenere le offensive dei giocatori avversari e l'attacco era poco rifornito. Per questo motivo non a caso secondo me Fonseca ha cambiato modulo nel ritorno contro il Manchester e se le cose andranno come io supporrò, come suppongo, anche nelle prossime quattro partite si rimarrà su questo modulo perché attualmente è quello che dà un po' più di equilibrio se consideriamo i giocatori che abbiamo in rosa. Non a caso alcuni sono riusciti a rendere molto meglio, vedi Pedro che a quanto pare se messo sulla fascia nel 4-2-3-1 può fare di più piuttosto che come trequartista nel 3-4-2-1. Magari è stato un cassisolato però cerchiamo di valutarlo bene. In questo video non vi farò nomi sicuri o perlomeno non vi dirò chi voglio come nuovo acquisto. Per quello ci sarà un video apposito a fine stagione in cui farò appunto il costruiamo la Roma della stagione 2021-2022 e vi dirò chi darò via e chi porterò alla Roma per rinforzare la squadra. In questo video vi voglio semplicemente fare un ordine di 5 ruoli all'interno dell'11 giallo-rosso che la Roma deve rinforzare assolutamente. Facendo un ordine, facendo una sorta di classifica dal ruolo più importante a quello che necessita di miglioramenti ma che magari si possono fare in corso d'opera e non a inizio calciomercato. Ovviamente vi invito come sempre prima di cominciare a scrivermi nei commenti quali scelte avreste fatto voi al posto mio, quali reparti rinforzereste in primis e quali magari non tocchereste perché già adesso li considerate utili per poter ambire all'obiettivo almeno del quarto posto, valevole per i giro dell'OF Champions League. Partiamo subito dal primo reparto, dopo 4 minuti, non pensavo di essere così prolisso. Il primo reparto che la Roma deve rinforzare assolutamente più di tutti gli altri è il portiere. Non so se addirittura bisognerà prendere due portieri. Io credo che Coffusato come terzo e Paolo Lopez come secondo ci possano stare. Serve un portiere titolare di indubbio livello, non una scommessa, non un giocatore di buon prospetto, un giocatore già forte adesso. E io metterei la firma già adesso se l'investimento più importante che la Roma farà in estate sia la porta. Cioè, l'ho spiegata malissimo, però per farvi capire che io, se la Roma fa un grande acquisto in porta, per me può anche fare acquisti meno altisonanti sugli altri reparti e ci sarà un indubbio miglioramento, perché lo abbiamo visto dalla cessione di Alisson in poi che avendo preso portieri non di gran valore, con i loro effettivi limiti, è carata anche la fase difensiva della Roma, ok? Che non serve solo un portiere. Nell'anno dello scudetto abbiamo vinto con Antonioli che non era un portiere fenomenale. Però considerando appunto che la difesa non è Samuel, Zago, Candelà e Cafu, vuol dire che dobbiamo pensare anche a rinforzare il portiere per rendere le cose un pochino più equilibrate. Prima si parlava di Musso, poi si parlava di Cragno, adesso di De Gea come nome assurdo. Io magari fosse, anche se la vedo un pochino difficile, pur considerando il giocatore in uscita da Manchester. E in ogni caso, per me la Roma, la prima cosa che deve fare è prendere un portiere. Un portiere bravo con i piedi e bravo negli interventi. Più con i riflessi che con i piedi, perché comunque lo stile di gioco di Murigno non prevede tanta costruzione dal basso. Diciamo che sotto questo punto di vista è l'esatto opposto di quello che ha fatto vedere Fonseca nei suoi due anni come allenatore della Roma. Indipendentemente da ciò, per me serve un portiere che sia una certezza. Non faccio nomi per adesso, perché è ancora presto, e anche perché finora la Roma ci ha abituato a prendere sempre quello meno nominato probabilmente, ma serve un portiere forte, un portiere che dia sicurezza a tutti i reparti del campo. Prima scelta, il portiere. Seconda scelta, l'attaccante. La punta titolare. Ho letto in giro che molti vedono una permanenza di Dzeko alla Roma con l'arrivo di Murigno. Murigno che è sempre stato comunque un estimatore del bosniaco, e quindi questo lascia presupporre che Dzeko potrebbe restare. Io vado controcorrente e vi dico che nonostante la profonda stima che provo per il giocatore, e nonostante magari l'impegno che potrebbe mettere in più venendo allenato da Murigno, credo che il suo ciclo alla Roma sia finito. Perché qua non parliamo solo di gol segnati, perché anche se quello è andato da non sottovalutare, perché non segna il campionato di primi di gennaio, e anche se sei stato infortunato è qualcosa di inammissibile. Ma anche per una questione anagrafica. Il giocatore ormai non è più quello di un tempo, non riesce a tenerti più palla e a far salire la squadra come faceva tanti anni fa, ci ha riuscito con l'Ajax ma in poche altre partite. Come qualità è in fase calante, e la Roma, visto che appunto avrà adesso sulle spalle per i prossimi tre anni lo stipendio di un allenatore importante come Murigno, non può spendere altrettanti soldi per un giocatore che non ti rende per quei livelli. Io posso accettare dalle 7 milioni un attaccante, purché sia di indubbio valore, sia un Lukaku per dirne uno, sia un attaccante che veramente mi porta dei benefici. Ora come ora io considero già quella Roma un capitolo chiuso. Lo considererò sempre uno dei migliori attaccanti che abbia mai vestito la nostra maglia, ma non possiamo ancora puntare su di lui. Se vuoi ambire a qualcosa di più ti serve un attaccante che sia una sicurezza. Si parlava di Belotti, anche in questo caso, poi qualcuno ha sparato il nome Aguero, che sarà in uscita a parametro a zero dal Sidi. Come era evidente, prima si parlava di certi nomi, dopo Murigno se ne parla di altri, ma come vi ho ripetuto mille volte, se nessuno sapeva dell'arrivo di Murigno alla Roma, figuratevi se adesso sanno quali sono gli obiettivi di mercato della Roma. Quindi non voglio illudere nessuno, vi dico che per me portiere e attaccante devono essere due ruoli importanti. Dice, ecco, gli voglio bene, ma se si arrivasse anche a una recessione sarebbe comunque ottimo, perché ti liberi del suo stipendio pesante, almeno per la prossima stagione, e avresti comunque uno slot libero per poter rinforzare il ruolo del centravanti. Maioral, se a Murigno piace, io come riserva lo terrei tutta la vita. Terzo ruolo da rinforzare assolutamente, la mediana, prendendo un mediano di quantità e qualità. Nel 4-2-3-1, magari farò anche un'analisi tattica più avanti, però nel 4-2-3-1 il ruolo dei mediani deve essere fondamentale, perché comunque devono dare copertura alla difesa, e devono non solo aiutare per parte difensivo, ma fornire quell'offensivo. Quindi devono siuscire a fare un ruolo doppio, diciamo, e attualmente nella Roma manca quel tipo di giocatore. A parte Veretù, che comunque può farlo bene, tutti gli altri non sono proprio predisposti a questo genere di giocata. E quindi, pensando magari a qualche cessione, secondo me, magari un Diavara, che bene quanto gli voglio, gli voglio bene, ma non lo vedo tanto adatto ad una Roma che vuole comunque ambire ad alti livelli, si può prendere un giocatore di quantità e qualità. Un Nandez, ad esempio, per me sarebbe perfetto. Qualcuno direbbe, sì, giocava nel Cagliari che sta per retrocede, anche Veretù giocava nella Fiorentina che sta per retrocede. E abbiamo visto quello che è successo. Non bisogna giudicare un giocatore dalla squadra in cui gioca, perché comunque se uno è forte, le qualità si vedono anche in quel tipo di squadra. Lo ripeto, nessun nome, terzo ruolo da rinforzare, la Mediana. Quarto ruolo, il terzino. Qua, non tanto a sinistra, quanto più a destra. A sinistra, secondo me, lo ripeto, se a Mourinho piacciono, sia Spinazzola che Calafiori, siamo a posto così. Calafiori adesso giocherà comunque con un anno in più sulle spalle, quindi avrà anche maggiore esperienza. Spinazzola, lo conosciamo tutti, e comunque anche col 4-2-3-1 per me potrebbe rendere bene, perché ha delle qualità anche a livello difensivo, seppur la fase offensiva sia quella migliore per lui. A destra invece serve un rinforzo, perché attualmente abbiamo tanti giocatori, ma nessuno di essi, a parte Karzorp, è una sicurezza. Karzorp per me va benissimo, perché ha dimostrato in queste ultime partite di rendere bene anche quando c'è da difendere, forse anche più di quando c'è da attaccare. Una cosa assurda, perché fino a qualche mese fa faceva soltanto la fase offensiva, invece adesso io ho visto fare recuperi molto importanti, e aiutare il reparto difensivo, nonostante appunto spesso abbia giocato come esterno di centrocampo, quindi per me Karzorp conferma assoluta. Oltre a lui però non abbiamo nessun altro, perché Santon neanche lo voglio più sentire nominare, Bruno Perez non gli verrà rinnovato il contratto, Reynolds per me è ancora molto molto acerbo, e l'anno prossimo lo darei in prestito, squadra di medio, bassa classifica della Serie A, purché gli dia un buon minutaggio, quindi serve un terzino destro. Non so se potrebbe essere riconfermato Florenzi, anche se Florenzi non è un terzino, però magari potrebbe appunto essere anche lui un acquisto, cioè una sorta di acquisto in casa, il Paris Saint Germain non sembra che la voglia riscattare, per me come riserva, sulla fascia destra ci sta, come titolare no, e l'abbiamo visto, però come riserva io un pensierino ce lo farei, purché appunto riesca magari ad affinare le qualità difensive che sono stati diciamo il suo tallone d'Achille, quando è stato costretto appunto a giocare come terzino. Quindi il quarto ruolo è quello là, soprattutto a destra. Poi se a sinistra magari vogliamo fare scelte diverse, un calafiore o uno spinazzolo non lo vogliamo tenere, bisognerà prendere un altro anche lì, però ora come ora per me a livello qualitativo e quantitativo siamo a posto. E il quinto e ultimo ruolo, ultimo diciamo per le mie scelte che la Roma dovrà rinforzare assolutamente è l'esterno d'attacco. L'anno prossimo torneranno molti giocatori da presidi, sicuramente Under, molto probabilmente Kluivert, quindi a livello numerico perlomeno ci siamo, però bisogna fare delle scelte oculate. Mkhitaryan non si sa se resterà perché ancora deve rinnovare il contratto e sappiamo bene che con Mourinho non ha avuto questo gran rapporto, quindi potrebbe anche decidere di finire la sua stagione con la Roma e andarsene in un'altra squadra. Se Mkhitaryan va via è indubbio che serve un giocatore di livello. Poi tornerà Zaniolo e Zaniolo per me sarà un perno fondamentale dell'attacco di Mourinho, visto che l'allenatore portoghese lo voleva già ai tempi del Tottenham, però bisognerà fare delle valutazioni. Pedro può essere ancora valido, Zaniolo fisicamente e tecnicamente tornerà quello di un tempo, Mkhitaryan vorrà restare, Kluivert e Under, chi dei due potrebbe essere utile per lo stile di gioco di Mourinho, bisognerà fare delle valutazioni. Io credo che comunque buona parte di questi giocatori non resterà alla Roma e quindi bisognerà fare un acquisto, un acquisto però di un giocatore che si sappia sacrificare perché tornando sempre sul discorso del modulo, scusate sono un attimo raffreddato, tornando sempre sul discorso del modulo, il 4-2-3-1 predispone un sacrificio evidente degli esterni d'attacco, facendo riferimento all'Inter che vinse il triplete, senza fare ovviamente un paragone tecnico tra le due squadre, l'Inter vinse perché aveva di grandissimi giocatori, ma anche giocatori che sapevano quello che dovevano fare e Tho, giocatore che l'anno dopo rimesso al centro ha fatto una caterva di gol, si è sacrificato nonostante appunto fosse venuto all'Inter per fare il centro avanti come esterno d'attacco che si faceva tutta la fascia, praticamente un terzino aggiunto in fase difensiva e questo la Roma deve riuscire a farlo e a trovare bene il giocatore che ci riesca. Tu devi avere degli esterni che quando c'è da difendere corrono indietro senza nessun problema, quindi devi avere degli esterni predisposti ad essere veloci, anche bravi tecnicamente, ovvio adesso è facile dirlo nel senso che grazie al cazzo direte voi, ovvio che servono degli esterni forti che sanno correre, sanno segnare, però principalmente devono essere adeguati allo spirito di sacrificio. Un esterno d'attacco forte che però non riesce a ritornarmi quando la squadra soffre, quando c'è da difendere, non è utile. Quindi questa caratteristica deve essere quella principale, pensare ad un giocatore che possa tornare dietro, dare una mano in fase difensiva, farsi sentire, perché purtroppo alla Roma quest'anno è anche mancato questo, l'aiuto di qualcuno quando c'era da difendere. Molto spesso i difensori si sono trovati da soli contro gli attaccanti perché il centrocampo non ha avuto copertura e gli esterni faticavano a rientrare ed infatti abbiamo preso una caterva di gol. Mourinho non giocherà con questa impostazione perché lui il gioco dal portiere non l'ha quasi mai fatto e quindi serviranno i giocatori con determinate qualità tecniche e tattiche. Questi erano quindi i cinque reparti che io, anzi, cinque ruoli, non i reparti perché i reparti sono quattro, i cinque ruoli che io rinforzerei assolutamente per conseguire comunque l'obiettivo del ritorno in Champions League. Per i nomi aspettiamo ovviamente che la stagione finisca e che ci siano magari aggiornamenti concreti per quanto riguarda gli obiettivi della Roma e la loro possibilità o meno di vestire la nostra maglia. Detto questo, vi rinnovo ovviamente a scrivermi nei commenti quali scelte fareste voi soprattutto in ordine di importanza perché la Roma necessita di rinforzi perché così ovviamente abbiamo troppe lacune. Ci vediamo presto per un altro video. Un saluto sempre e comunque forza Roma ora mi vado a soffiare il naso perché è da mezz'ora che lo devo soffiare. Non ce la faccio più. Ciao ragazzi.